vengo a curare che non mi schiacci le lumache guarda che lì ce n'è di una moto bella fredda moto bella fredda gelata è l'ideale dargli una rampa così subito svuotarla prima poi due o tre colpi e dopo andare magari è appunto ma la moto si è rifiutata dai fa il gir fa il gir gargamella da freddo sinonimo di qualità esagerata vedi vedi è sinonimo di quali quali è già tre perché la prima me la son per la pianta lì lasciala stare che fra un po' ributta che togliamo solo quelle secche noi dai due avanti finiamo non andare giù nella valle della morte per favore no si chiama della morte è appunto appena entrato in campo ecco il nostro pilotone di punta ha già dato adesso a mazzallele seguiamo 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 prossima calzata vediamo guarda guarda penso che abbia messo una marcia qualsiasi ecco controlla che marcia è quarta quinta basta lascialo stare va e fa niente se tocca dentro un pelo così rompi anche l'alberino guarda un leverino sottile e leggero ecco adesso va a cercare un attrezzo attrezzo adeguato all'opera l'attrezzo si è rivelato non corretto ci vuole o un cacciavite o un cacciavite o un leverino o un cacciavite o un leverino serve nel fiume dai metti sta marcia e basta tanto te ne usi una solo due non riesci così è di alluminio e torna indietro c'è un ferro che devi da qualche parte dopo lo troviamo dai vai oh avanti marcia a caso via più veloci della luce forte e coraggio io li evito se no mi scappa e vado ad infogliarmi qua basta va a fare manutenzione va a fare manutenzione video da 300 visite fatto